ascoltare mammo salentino con i maneskin che la ballano penso che sia veramente il sogno di ogni donna ragazzi benvenuti grazie allora devo farvi una presentazione ufficiale this is maneskin ok allora vi ricordo due sese del digitale terrestre sette sese di sky siamo anche a radiovisione quindi i ragazzi sono qui al tre tre cinque trenta dieci venticinque scusami Damiano il i vostri messaggi allora benvenuto Damiano Vittoria Ethan e Thomas allora il vostro è un gruppo affiatatissimo venite da un periodo meraviglioso avete già iniziato il tour estivo con il ballo della vita tour ma c'è qualcuno che vedo leggermente preoccupato perché la prossima settimana ci sono gli esami orali io ho un rappresentante ragazzi ho un rappresentante vero vero reale di uno di quei cinquecento ventimila allunni che stanno sostenendo la maturità Thomas come è andata a matematica e fisica vieni vieni vicino a noi stringiamoci tutti ragazzi che bello diciamo è andata questo posso dire dai ci abbiamo fatta era la prova un po più temuta un po da tutti gli studenti penso quindi ci siamo riusciti abbiamo fatta sono contento così senti allora incrociamo le dita per la prossima settimana speriamo bene allora interrogazione perfetta lei può tornare a posto ok grazie mille scherzo naturalmente allora il ballo della vita tour veramente il siete dei fenomeni la fond prodige perché lo siete lo siete veramente stati tutto inizia da quel bel dicembre del 2017 e poi che cosa è successo è un sacco di cose belle non ci ricordiamo neanche tutte in ordine per quante sono state però ci sono state un sacco di bellissime notizie continuo ad andare tutto a gonfie vele adesso c'è questo tour estivo con tantissime date non vediamo l'ora di affrontarlo di tornare sul palco davanti al nostro pubblico e infatti che poi è iniziato proprio il 9 di giugno dal core festival poi nel corso del nostro poveriggio racconteremo e soprattutto ricorderemo anche tutte le altre date bellissimo dal ballo della vita mi piace un sacco questo pezzo l'altra dimensione maneskin e proteina z beh nell'altra dimensione c'è il ballo della vita maneskin alle 15 e 39 minuti allora anche sul 266 del digitale 766 sky video meraviglioso allora vittoria io vorrei sapere il ballo della vita come ti è venuto questo titolo perché chiamare un album il ballo della vita ma in realtà questo titolo ci è venuto proprio perché pensiamo che rappresenti appieno il nostro messaggio in realtà poi l'abbiamo scelto in seguito una volta che avevamo finito di scrivere l'album e alla fine rappresenta proprio ciò che vogliamo esprimere ovvero un ballo della vita un inno alla vita alla felicità alla gioia alla libertà di espressione proprio la libertà assoluta quindi era questo che volevamo appunto esprimere con le nostre canzoni e siamo molto felici di questo tipo. Senti questo e quindi è un album scritto proprio di pancia. Sì sì assolutamente diciamo che da da quando siamo usciti e abbiamo fatto già il primo tour già nelle piccole pause abbiamo iniziato a scrivere appunto i pezzi poi ci siamo chiusi per due mesi in una villa sperduta nel nulla dove l'abbiamo diciamo sistemato tutto e abbiamo fatto anche... Non così sperduta. Non così sperduta. letto il nome di Fabrizio Ferraguzzo e poi ci sono tanti altri bravi musicisti che hanno collaborato con voi. Ah sì? Istentivo. Ah ma sì abbiamo avuto comunque abbiamo inserito le gli archi comunque abbiamo preso varie sezioni di altri strumenti perché noi da soli non li sappiamo suonare. No no Fabrizio Fabrizio è una figura che che ci affianca da sempre è nata pure una bella amicizia soprattutto quindi siamo molto contenti di collaborare con lui. Allora quest'anno veramente siete stati ragazzi dei grandi numeri io qualcosa ho appuntato. Cioè ci sono state 66 date di sold out, 135 mila presenze, 12 dischi di platino, 4 dischi d'oro quindi vuol dire che ognuno di questi praticamente è doppio, triplo, quadruplo platino. Va bene dove vorrete arrivare lo vedremo insieme. Si vedrà. Radio Z vuole molto bene Maneskin. Allora Vittoria io te la faccio annunciare vai. Morirò da re di Maneskin. Morirò da re di Maneskin alle 15 e 44 minuti in Protino Z che bello ascoltarla e sentire i commenti dei ragazzi. Damiano che cosa raccontavi di questo video perché sentivo un po' di cose. Tutto oggi è bello da rivedere abbiamo fatto proprio un lavorone. È vero. E direi e direi. Allora la vostra dimensione prima si parlava appunto dell'altra dimensione mi è piaciuto molto questo messaggio che voi mandate in questo brano cioè ognuno può trovare veramente la dimensione in questo mondo dove può seguire la propria vocazione essere se stesso. Voi avete avuto la fortuna di incontrarla da subito la vostra vocazione. Sì siamo stati molto fortunati siamo stati altrettanto fortunati che le nostre quattro vite si siano incrociate in questo momento quindi noi ci rendiamo conto di essere stati molto fortunati appunto vogliamo mettere questa nostra fortuna a disposizione degli altri. E questo si sente anche molto durante il live. Senti Vittoria però sei stata tu quella che ha creato il Maneskin tu con Thomas giusto? Sì Thomas i fratellini. Ma da chi è partita l'iniziativa da te o da Thomas? No insieme perché quando eravamo piccole appunto alle medie ovviamente suonavamo in vari gruppi perché andavamo appunto in questa in questa scuola musicale quindi io e Thomas avevamo avuto varie band insieme e poi proprio casualmente abbiamo ci siamo tutti aggiunti diciamo abbiamo detto formiamo adesso il Maneskin però ci siamo trovati abbiamo fatto una prova ci trovavamo bene e poi da là è diventato sempre più serio. Sei tu che hai origini danesi? Sì. Perfetto quindi siete un chiaro di luna. Yes. Allora allora sulle due stessere del digitale sette stessere di Sky li vedete li seguite in Proteina Z ci sono i Maneskin che sono tornati chiaramente in tour a questo punto diciamo la versione estiva del ballo della vita tua che è uno show pazzesco insomma. Pazzesco. Pazzesco il termine esatto. Allora veramente la vostra arma arma così proprio di seduzione proprio il performing no? È un qualcosa che vi ricordo una volta Damiano disse abbiamo imparato proprio su strada cioè per suonare in strada perché questo? Perché abbiamo avuto tutto un lungo periodo dove abbiamo suonato appunto per strada abbiamo suonato a Pia del Corso a Roma per comunque farci un po' di pubblico e anche per raccimolare qualche soldo per appunto finanziarci e lì abbiamo imparato ad attirare il pubblico a noi perché quel pubblico non era nostro era un pubblico casuale che ogni giorno cambiava e abbiamo dovuto appunto imparare ad attirare l'attenzione anche a lasciare un un ricordo impresso che magari quella persona il giorno che ti rivedrà dirà cioè si ricorderà di te in strada. Che cosa bella. Senti continueremo a parlare di questo in Maneskin su Radio Z. Eh posso dirlo il gran bel tiro di Maneskin. Lasciami stare Maneskin alle quindici e cinquantuno minuti. Allora Damiano t'ho visto particolarmente impressionato. Ti piaceva questo pezzo alla radio? Come suona? Eh no non me l'ha aspettato che passasse dall'aria quindi sono contento. Sono stato contento. Che bella questa cosa. Allora Maneskin on stage è veramente la vostra dimensione giusta, ideale. C'è una parola secondo me per voi magica non lo so è un'impressione che ho avuto. La disciplina. Decisamente. Decisamente sì. No vabbè perché comunque per fare questa vita soprattutto quando si è in tour si hanno dei ritmi molto molto toste molto molto serrati quindi bisogna essere sempre sul pezzo sia fisicamente che psicologicamente questo elimina tutta quella parte di eccessi classici dello stereotipo della rockstar che noi cerchiamo di di evitare. Poi chiaramente siamo quattro ragazzi ci piace divertirci e ci mancherebbe. Cioè non è che siamo chiusi in clausura però cerchiamo di di essere il più sportivi possibile. Certo. Voi molto disciplinati un po' meno le vostre fan. È giusto. Allora per tornare per tornare chiaramente a un stage c'è stato questo bellissimo tour italiano c'è stato un bellissimo febbraio in giro per l'Europa tornerete anche in Europa quest'estate. Giusto? Allora ricordiamo appunto che voi siete partiti già il 9 di giugno. Questa rete domenica e lunedì a Roma. Sì. Al Summerfest il 29 giugno meravigliosa location piazza San Marco a Venezia. Che cosa succederà lì ragazzi? Un grandissimo evento nel quale collaboreremo con altri due artisti che sono Francesca Michelin e Max Gazet e abbiamo concluso le prove da poco e verrà veramente un gran concerto e soprattutto per lo scambio fra appunto fra di noi e Francesca e Max abbiamo deciso di non fare delle parti separate ma di unirci mischiarci ognuno fa un po' i pezzi dell'altro e verrà veramente un bel mix. Che bella questa cosa. Pensare che insomma voglio dire due anni fa tecnicamente tutto non c'era nulla di tutto questo. Non è neanche pensabile neanche immaginabile. E quindi posso immaginare anche insomma il vostro stato d'animo. Poi chiaramente continuerete perché il 6 luglio sarete al Collisioni Festival di Barolo e poi ci sarà il 19 luglio Luca Summerfest e poi ci sono altre date il 27 di Nuova Svizzera e poi Parigi l'11 settembre sono piaciuti Manescan a Parigi più a Parigi o più a Londra? Ma secondo me un po' tutti e due. E a voi è piaciuta più Parigi o più Londra? Tutte e due. Stava proprio un'esperienza bellissima al tour in Europa proprio vedere ogni città alla fine è difficilissimo scegliere perché ci sono miglioranti. A Londra siamo stati più giorni dai. A Londra vince perché siamo stati più giorni. Però pure Parigi. Però Parigi no fighissima però vabbè dai Londra cinque giorni. Cantano i Manescan comunque eh. Quadruplo platino giusto? No. Eh? Non mi sembra esagerare. No no no. Così pare. Così pare. Così dicono torno a casa i Manescan dalle quindici e cinquantasette allora vogliamo parlare della donna più ricercata d'Europa? Ma è una donna, è un concetto, è una filosofia, è una dimensione. Chi è? È un'idea, è un messaggio e diciamo abbiamo voluto dare un'idea di un'idea umana di quello che poi è il nostro messaggio che è appunto quello che dicevamo prima è quello del ballo della vita di di cercare di essere il più possibile se stessi e andare anche oltre i propri limiti oltre anche i limiti esterni. Abbiamo voluto appunto dare dare un nome a questo concetto per renderlo più più assimilabile appunto se un messaggio lo vedo come una persona che potrebbe essere possibilmente una mia amica o qualcosa. Certo. Lo rendo più più potente almeno secondo noi e questo è stato un po' il il gioco che poi è stato per fortuna preso molto molto seriamente molto a cuore dalle persone che era quello che che speravamo. Senti con tutte le parodie che sono state fatte che rapporto avete avuto? No pure là. È successo quello lì eh? Sedite sedite sì sì. A voglia parecchie. Chi è Marlena? Chi è Marlena? Chi è Marlena? Ma è tornato a casa Marlena? Ma ora è andato a ballare con Marlena. Pure la roba la roba delle mele pure un sacco. Ragazzi no vabbè voglio dire siete riusciti nel vostro intento. Invece ecco mi diceva prima così a microfoni spenti etan diceva etan diceva sarebbe bello creare una versione ancora più elettronica di questo pezzo. Edan è pazzo? Edan è pazzo. Edan è un pazzo. Edan è un pazzo. Non ascoltate edan edan è matto. Ti parlano sopra. Edan sì confermo che sono un po' matto. Sei il più pazzo. Senti non sarresti stato pazzo di musica anche tu eh? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora ragazzi ricordiamo quindi che domenica e lunedì sarete nella vostra città a Roma. Alcune di queste date sono alcune sono già sold out. Leggevo oggi come per esempio Macerata. Però insomma raggiungete e soprattutto rincorrete i maneskin. Sul vostro profilo troveranno tutto. Tutto quanto. Giusto? Quindi il prossimo appuntamento o l'appuntamento più vicino è quello che ci aspetta domenica e lunedì. Siete carichi? Carichissimi. Siete pronti? Più che pronti. Che bello. Ragazzi io sono stata felicissima di avervi incontrato. Non ho avuto l'occasione prima quindi ecco ve lo faccio oggi i miei complimenti. Siete veramente straordinari. Grazie. In bocca al lupo e avanti tutta così. Grazie ai maneskin. Ciao grazie.